Ehi, 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 ragazzacci! Buonasera! Quel momento della settimana è arrivato, eh? Amici, mi chiedo se a un certo punto di questa blind run io smetterò di essere sorpreso. E voi mi direte, ma che significa Saidonia? Hai avuto delle sigle? Hai avuto delle intro? Hai avuto un intero sito web che è stato fatto solamente per la tua blind run? Che altro ci deve essere? Beh, allora, per quanto assurdo possa sembrare, oggi un mio collaboratore mi è venuto a trovare a casa, per vari motivi, e quel collaboratore mi ha dato un libro e mi ha detto i ragazzi del sito sanno tutto, ti è vietato aprire questo libro, ma dovrei raccontare una storia su di esso. E un giorno, grazie alla community, questo libro farà parte della blind run e io dovrò usarlo per capire delle cose. E che cosa cazzo sta succedendo? Questa serie sta diventando una RG. Io non so cosa dire, ma prima di farlo, prima di raccontarvelo e di farvelo vedere, c'è un'altra storia, c'è un altro libro che tutti dovreste ripassare. I cubi spezzati Raccontano una storia L'antico regno Di Ego Balego È stato frantumato A casa nostra Oltre Le miniere Al momento Il re Lucio Non si trova più E nella notte Delle spade diamantine Wazo il Manzo È stato il primo a morire Presto I figli del re Si sono fatti la guerra Ognuno di loro Cercando di reclamare Ciò che rimaneva Di Ego Balego La voglia di primeggiare Di tutti coloro Che rimasero Finì per avvelenare Le lande Di Grosseth Una guerra Dalla quale Nessuno Emerse vincitore Una guerra Nella quale Purtroppo In ultima istanza Persino la nostra Ignota divinità Ci ha abbandonato Definitivamente E allora adesso Risorgete Non morti Voi Che siete sottoterra Eppure vivete La chiamata Delle miniere Parla a tutti voi Risorgi Lionel L'arciere Cecchino Julius Il lupo Maledetto Nicolaus Il cubetto Esplosivo Efisio Il mangialava E in ultimo Ruslan Il costruttore Di ogni cosa E in ultimo Un ricercatore Senza no Che voleva Ripristinare L'ordine del mondo E allora Risorgete Non morti Tutti in piedi Amici Videospettatori Con un giorno Prima del previsto Parte la Portalica Run Di Minecraft Superficie Cela Un grande mistero Ego Balego Sarà Poi Tutto vero La volontà Di primeggiare Li Avveneno Eterre Nessuna Traccia Divinità Che ha Abbandonato Le terre La tua Fiducia Ormai Scalfita Da guerre Ricorderò La luce Per queste Colline Sono Cubi Che Si Giorgio Giorgio Io mi chiamavo Giorgio Era un ragazzo Poco più che 15 anni Su Minecraft Ci rimette le penne Costruiva case e chiese E no che non badava spese Stava attento ai golem E pure agli arcieri Tira tutto il legno Si fa come Bobo Vieri Scappa tutta la notte Rai non morti Perché cazzo Sono risorti Io non lo so Questa è una verrà Ne stai attento Perché non Non sei mica Ruslan Non puoi Rutilare Per queste Colline Sono cubiche Sì È un mondo A cubetti Vorrei del legno Signore Ne prendo due Etti Questa è la mia Blind run In Minecraft Si canta sempre In countdown Ma non conosco niente Voglio la copertina Di Charlie Brown E un c'è due Senza tre Il papa non è re Bisogna stare attenti Che fuori c'è il demone nero Si si stai attento Che arriva con me il vento Un demone redento E ti dice il cazzo Ti ho spento Sonjan troppa Ah, cioè ho fatto tutto, però mi sono scordato di fare la cosa più importante, accende la videocamera, che non è proprio il massimo dell'intelligenza. No, no, non è colpa di Elgato, è colpa mia, non ho acceso io la telecamera. Signori, buonasera e benvenuti alla Blind Run di Minecraft, nella quale si canta sempre in countdown. Sono d'accordo, è più importante cantare, è importante anche prendere appunti ed ecco perché io sono munito del mio solito taccuino. Anche se quest'oggi ne ho un altro di taccuino, quindi mi metto vicino anche il libro. Niente update alla 1.2.0, no, ve l'avevo detto, vi avevo già spiegato il perché non vogliamo rischiare di fottere le mod in questo momento. Ok? Quindi ci prendiamo una settimana, dieci giorni, dopo che abbiamo verificato che tutte le mod e tutte le cose funzionano, aggiorniamo. Fino ad allora rimaniamo, sì, vabbè, 1.20 ragazzi, 1.20, dico sempre 1.2, però in realtà è... Sapete perché dico 1.2? Perché per me Minecraft è uscito ora, capito? Ma l'ho messa la musica, sì. Per me Minecraft è uscito adesso, nella mia vita. Quindi è la 1.2, non è la 1.20. Ma in realtà sì, per voi è uscito dieci anni fa, quindi 1.20, super sensato. Minecraft inizia ora, assolutamente. Fatemi prendere il doppio taccuino che vi faccio una storia. Vi faccio, vi racconto una storia. Allora, allora, bene, dicevo, tra una settimana, tra dieci giorni massimo, quando i modmi e lo staff dietro anche il sito Diego Balego mi dà il via, aggiorno tutto, ok? Oggi non me la sono sentita. Io credo che voi sappiate che cosa ho in mano, ma al momento, se non mi fosse stata fatta la prefazione che mi è stata fatta e che vi racconterò a breve, per me questo sarebbe solo un delizioso e genuino prodotto di merchandise. Non è così, ok? Quindi parto dalle premesse. Oggi viene in casa mia per delle cose burocratiche del terzo canale, del secondo canale e per portarmi un portatile del quale faremo una partnership, una sponsorship, tra qualche tempo. Viene appunto questo mio collaboratore che è anche collegato in chat. Frigo Hut, Alessandro Frigo, li ve ne parlo spesso, Technical Support di Grow Up. E viene e mi fa, ho una cosa per te. E intanto sta tipo mandando un vocale a Ferdi. Faccio va bene. Che cos'hai per me? Mi sta mettendo a disagio il fatto che non parta la musica. Però è tutto a posto, cioè non si sa perché non parte la musica. Prima o poi ci sarà del suono. Se non metto il suono del sito Diego Baleghi. Mi porta un libro. No, non si slaccia pantaloni, ragazzi. Facciamo così. La metto direttamente dal sito Diego Baleghi, tanto sono le stesse. Ok? E lo devo aprire, perché abbiamo detto di tenerlo sempre aperto. Ego Baleghi Project. Così abbiamo risolto anche questo fatto. Ecco qua. Tanto ve lo devo far vedere. Nuova quest sbloccata. Ne parleremo dopo. Abbiamo tante cose di cui parlare a quanto pare in intro. Va bene. Con calma. Con calma. Ragazzi, intanto che vedo quasi il livello 4 dell'hypetrain. E fate bene. Con calma. Il mio collaboratore mi porta questo libro. Oh cavolo, voi non lo vedete bene perché c'è il green screen, giustamente. È un libro verde. C'è chiaramente un creeper in copertina. Ed è strano. È mezzo ruvido e mezzo non. Credo che voglia in qualche modo... Anche la full calm sarebbe green screen in questo momento, Fer. Questo libro credo che riprenda la texture a livello tattile del creeper. Perché a volte è ruvido e a volte no. Ok? Quindi mi è stato dato questo libro e mi è stato detto, usciamo per un secondo dal roleplay, che è stato privato della sua sovracopertina. Quindi in realtà questo libro ha una copertina diversa. Ha una sovracopertina tipica, credo, in plastica. Ecco, quella è stata rimossa. È verde il libro, sì. Vediamo se riesco a farvi vedere con un barbatrucco senza green screen il tutto. Aspettate, eh. Sì, forse sì, così. Aspettate, eh. Ecco qua. Ok? Ok? Io non so cosa ci sia al momento. Quindi vi chiedo di non scrivere niente. Al momento non sto vedendo la chat perché ho il libro davanti. Non scrivete che cos'è, per favore. È un... libro. Io ho un'idea su che cosa sia, ma solo perché mi sono stati dati degli indizi. Ok? Bene. Mi è stato detto, tornando nel roleplay, che questo oggetto non è solamente a disposizione di me, Francesco, Cydonia, creator. Questo libro è a disposizione, ma non può essere aperto, anche del ricercatore di Grosse. Gli è stato consegnato da un mercante, gratuitamente, e questo mercante gli ha raccontato, prima della consegna, dell'uomo che glielo ha venduto, anche in quel caso gratis. Si tratta di un anziano che vive in un lontano villaggio sperduto del quale non conosciamo il nome, che racconta di venire da una regione con un buco al centro. Quindi immagino che chiunque abbia costruito questa storia di roleplay voglia suggerirmi che questo potrebbe essere il libro verde di Minecraft. Non è né il libro scarlatto né il libro violetto, questo è il libro verde. Non ho idea di cosa ci sia dentro e non posso aprirlo. Il libro smeraldo mi piace, ragazzi. Questo è il libro smeraldo. Va bene? Il libro verdetto. Credo che ci possano essere informazioni su geologia e fauna vegetale e animale del mondo di Minecraft. Il fatto è che verosimilmente qui c'è anche tanta roba del Nether, nonché tanta roba di biomi che non ho ancora scoperto. motivo per cui non posso, esatto Ferdi mi è stato detto, non posso sapere neanche il nome del libro, ovvero è un libro, ci tengo a precisarlo, di merchandise ufficiale di Minecraft, quindi non è un fan product, è una roba ufficiale, che alcuni ragazzi della community hanno pensato poter essere adatto all'espansione della mia esperienza in blind, ok? Aspettate ho per sbaglio fatto il rimuovazione zeta perché sono un pisellino pallettino, aspettate, eccoci qua. Ora non sono più pisellino pallettino, l'ho rifatto di nuovo, ma ci dovrei riuscire con un abile gioco di cazzo e palle. Ok, eccoci. Stanotte avrei voluto guardare Sbeku ma non gli funziona la live, in che senso? Ma va scritto prima Mike, cos'è successo? In che senso? No, mi dispiace, ci stavamo scrivendo un attimo fa. Non gli ha funzionato qualcosa? Ah no, mi ha semplicemente taggato Live muta da Saab Mi spiace Mi spiace tanto Sta veramente avendo una sfiga dietro l'altra quel cristiano, eh Abbracciamolo forte Mi spiace tanto Ne parlavamo oggi proprio con Ale che è anche il suo di Tecnical Sapp Comunque A questo punto direi che devo aprire il sito Non è un AD, no 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 Ah, dite la live di Mike sì La live di Mike sicuramente Questo no Questo non è un ADV Anche perché altrimenti dovrei metterci l'hashtag È veramente un regalo che mi è arrivato oggi E appunto Penso che mi possa aiutare Nel corso della mia run Io ancora una volta voglio Precisarlo Create L'invito È sempre quello a Creare E costruirmi Costruirmi ponti Per comprendere quello che secondo voi Non potrei capire da solo Con un sofisticato sistema di specchi E theory crafting Sul banco da lavoro Non Non adesso Dario Aprirò questo libro ma non oggi Ok? Aprirò Questo libro Ma non è oggi il giorno Detto questo Si è sbloccata una nuova quest Darei un'occhiata Al nostro sito Recita Masaidonia E guarderei innanzitutto il diario Per vedere se è cambiato qualcosa L'altra parte Guarda qua Hanno già aggiornato con l'ultima entry del diario Sul bestiario Vediamo un po' Il demone bianco Stai attento Il demone nero Hanno cambiato la entry Abbiamo aggiunto i predoni metallici Che non sono più so easily forgotten I mai altri che però sono stati scritti come Mia latri Mia latri Oddio ho fatto Ho fatto un typo forse No Però qui c'è scritto Mai altri O forse ho scritto mia latri davvero Ed è una presa per il culo Potrebbe Devo controllare Mia latri non morte Forse ho sbagliato tutto Chi lo sa Non morto tritone Non morto bambino Non morto La manta Ci sono tutti Ci sono tutti Il demone bianco è cattivo Probabile agglomerato mentale Di mai altri Morti in tenera età Di loro non resta che l'incessante pianto È la rabbia di una vita mai vissuta Non conosco ancora La loro resistenza fisica Ma il potenziale offensivo È oltre ogni cosa Affrontata finora È proprio vero È proprio vero Dopodiché Ma ragazzi Ma che vuol dire? L'hanno già aggiornato Una mente alveare Questo sito Cosa significa tutto questo ragazzi? Com'è possibile? È senziente Il sito è parte del problema Di Grosset Abbiamo due nuove quest Questa è Grosset TV La home page Demone nero Non ho più paura Scusatemi Mi guardo barando un paio di frasi Benvenuti al Grosset Va bene Abbiamo due quest nuove La forma d'arte suprema E direi che ci abbiamo dato Il naturalista E chiaramente il Callugaris Di Di Minecraft Beh allora Ne abbiamo sbloccate due Di tante altre presenti Guarda questo È un cubo incubato E quindi direi di Guardare prima il naturalista Vedi? Ho incontrato uno strano mercante Mi ha ceduto un libro Piuttosto peculiare È chiuso da un potente Incantesimo Mi ha detto Tante sono le serrature A sua protezione E gli abitanti Dei mondi Ne sono la chiave E poi è sparito Come è apparso Ok questa cosa In realtà Non la sapevo Non ci ho capito molto Ma da quando Tengo questo volume Nella mia borsa Un pensiero Adagio adagio Nella mia mente Si è fatto strada La stagione di caccia È aperta Grazie Zangetsekiro Credo che questo Significhi che la quest Non si sbloccherà realmente Senza aver fatto Molte altre cose Nei vari biomi Penso che questa frase Voglia dire Che devo prima Completare da solo In Blind Run Diverse cose Per poter avere Accesso a questo libro In ogni caso Tanta curiosità Tanta tanta curiosità Al riguardo Cazzo Mi fido di questo team Perché è stato Ipercriptico In questa quest E apro anche La forma D'arte suprema È un cubo È palesemente Un cubo Potrebbe essere Una fornace Potrebbe essere Un altro banco Da lavoro Nel regno di Grosset Qualcosa manca C'è un silenzio Freddo Che la notte stanca Un ricordo sbiadito Torna alla mente Una donna Che canta In modo accogliente Note leggere Al cuore mandava Un brano d'amore Ella spesso intonava A tutti i suoi figli Con voce cantava La ricetta Dell'arte Che così recitava Oh siete bravissimi Cazzo Nel cuor suo Una gemma brillante La cellulosa Fa da involucro elegante In sinfonia Si fonda un conarte Creando qualcosa Di davvero intrigante La forma è semplice Vedrai E una nuova arte Infine farai È qualcosa da fare Con la carta intorno E dentro una gemma Vi chiedo di andare di nuovo In emoticon only Perché non voglio sapere niente A riguardo La cellulosa E la carta Ragazzi Quindi in teoria La cellulosa Intorno La carta E dentro Una gemma brillante Che potrebbe essere Il diamante Lo smeraldo I lapislazzuli La redstone Però la redstone Non è una gemma È polvere Potrebbe essere però Il blocco di redstone La forma d'arte suprema Che esista ancora Un intero gruppo di Un intero gruppo di elementi Che non posso ancora Di creazioni Che non posso ancora fare Senza avere un nuovo banco Da lavoro Il super banco Il banco dei banchi Il banco dei pegni E perché c'è una donna Che canta? Nel regno di Grosset C'è qualcosa che manca Un silenzio freddo Che la notte stanca Quindi in teoria Questa creazione Se io riuscissi Ad accedervi Renderebbe più Rumorosa Grosset Forse la gemma Brillante È La ametista Mi pare che si chiami Quella che fa rumore E questo è il fatto Per questo parlano Del silenzio Nel leggere Note leggere Scusatemi Al cuore mandava Un brano d'amore La spesso intonava A tutti i suoi figli Con voce Cantava La ricetta dell'arte Che così recitava Nel cuor suo Una gemma brillante La cellulosa Fa di involucro elegante In sinfonia Si fondono con arte Creando qualcosa Di davvero intrigante La forma è semplice Vedrai E una nuova arte Infine farai Allora Prendo subito Il controtacquino Prendo subito Il controtacquino Bellissimo comunque Questa idea Delle quest Secondo me Evolverà ancora di più Questa blind run Dove non è mai stata Nessuna blind run Al mondo Di questo gioco Allora Minecraft mi ha insegnato Nelle ultime puntate Che le forme si ripetono Si ripetono Basti pensare Alla freccia spettrale Che si fa con freccia al centro E cazzi ai lati Che è lo stesso concetto Della bussola Quindi qui Abbiamo due possibili Set up Per soddisfare Questa poesia Il primo è Gemma al centro E come una bussola O la freccia spettrale Mi pare che si chiami Carta ai lati Oppure Gemma al centro E full carta Su tutti i lati Che sarebbe Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Carta E un E un gemma Del sud Il gemma del sud Potrebbe essere A occhio Diamante Si parla di gemma brillante Potrebbe essere Lo smeraldo Potrebbe essere Il blocco Di redstone Parla di cellulosa La carta potrebbe essere anche legno Conti fatti Ci metto anche legno Blocco di redstone L'oro Però non è una gemma E basta Perché non voglio fare questo ragionamento In chat In un momento in cui ancora non ho nascosto la chat Perché altrimenti nell'unico momento in cui potete parlare siete in emoticon Non lo trovo giusto Quindi Per favore ragazzi Andiamo adesso fuori dalla emoticon Non commentate su questa cosa Così che io possa ragionarci Tra poco A chat salutata Va bene? Così almeno adesso potete parlare Se no non ha senso Vi muto sempre Io all'inizio e alla fine della live Vi voglio leggere Ok? Mi raccomando però Sicuramente qualcosa è aggiornato in tempo reale Questo sito gioca con la mia mente Aggiornato in tempo reale Lo vedo Il ricettario lo conosciamo Le coordinate sono state aggiunte Quelle di Nugget Ovviamente Impossibile non aggiornare questo sito in 3 nanosecondi Impossibile Assurdo Tutto questo è assurdo amici miei Tutto questo è assurdo È davvero Assurdo Nelle profondità della terra Si trovano le rovine di Nugget Un tempo città prosperosa Cadde in rovina A seguito del folle tentativo Di unire esseri umani e polli Bravi tutti ragazzi Bravi tutti davvero È Polaretti ancora Work in progress Non l'abbiamo mai 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 esplorata Quindi A voglia te A voglia te affatto Direi che con il sito ci siamo Direi che con il sito ci siamo Comunque non ironicamente è impossibile Esiste una blind run di Minecraft come questa sul pianeta Incredibile l'amore per questa serie Non ho più parole Cioè sta roba Sta roba Delle quest Del libro Del sito È follia Ma follia godosa Follia godosa Prima di andare in blind run ufficiale Apriamo di nuovo il gioco Sblocchiamo l'audio Sperando che ci accolga Con una musica Ma Sembra non volerlo fare Partirà prima o poi E Mi sono scordato di portarmi l'acqua in studio Quindi vado A prendermi la bottiglia d'acqua Aspettatemi Dieci secondi Facciamo Il Listone Mi aiutate a fare il listone E poi ci salutiamo Va bene? Che non nel senso che vado via Nel senso che comincio a giocare Aspettate Aspettate Ah ovviamente Ora è partita Tutta To rest Le mie ambizioni Questa musica Così ho fatto una pippatina No Non posso scherzare Ragazzi avevo sete Avevo sete Allora Che recovery Good Il listone Il listone Vorrei tornare nel nether Tornare nel nether Per ora non sto Dando un ordine specifico A queste azioni Lo decidiamo Dove Vorrei tornare Nel luogo Nel luogo Di spawn Degli Zombie Barra Dei non morti Vi ricordate Dove abbiamo trovato Il La bardatura di diamantina Perché Perché a tra parentesi Giusto fuoco blu Perché Il non morto che è uscito Da quel luogo creatore Da quel cubo creatore Di non morti Aveva una bardatura particolare Anche lui aveva un'armatura Indosso speciale Quindi chissà Quindi chissà Magari se Farmo Quegli zombie Che escono lì Se mi metto lì davanti E comincio a picchiarli Magari Riesco A Acquisire dei materiali Non altrimenti disponibili Magari Più rari Poi Mappa Del Nether E Apro una piccola parentesi Una piccola Branch della pipeline Base Operativa Sa che oggi andiamo nel Nether pesanti Demone nero Ma non Demone nero Tra parentesi Non nel Nether Un demone nero Può essere affrontato Ma qui non posso dare Neanche un ordine All'azione E peraltro Il demone nero Del Nether Non può essere affrontato Perché l'acqua evapora Lo abbiamo scoperto L'ultima volta Cos'altro? Piantare i nuovi semi Corretto Piantare Togliamo un po' di grano Magari Piantare I nuovi Semi Avevamo trovato la zucca E altre robette Interessanti Zzzzzzz Altro? La quest della... Ovviamente, avete ragione La quest Della Gemma Corretto Potrebbe essere anche la quest della gemma Un'altra attività E... Magari sul finale Magari sul finale Demone bianco con frecce potenti Neanche lo scrivo, raga, ovvio Vado con le frecce spettrali lì dentro Le ho fatte con tanta fatica l'altra volta L'altra quest Non è fattibile ancora L'altra quest è solo un racconto di questo libro Ma prima di poterlo usare Devo avere le chiavi che si trovano Nei biomi lontani Non ho idea Rendere l'albero madre Completamente dorato Giusto? Dobbiamo ovviamente fare il diario Il diario Ho una entry Mi è appena venuta in mente Una entry del diario Che posso fare Aggiornare il bestiario Perché c'è qualcosa di nuovo Che ho trovato? Forse i ragni velenosi Non li ho mai scritti Mi è venuto in mente ora Ragni Velenosi Il seghino tattico Giusto Ah è vero I cubi di magma I cubi di magma E anche i cinghiali È vero È vero I cubi di magma Che droppano Quegli slime strani Togliere la pedana a pressione Mai Il cubo di smegma Cagarsi addosso L'hai segnato No Ferdi Scusa Cagarsi Indosso Fatto Esplorazio Vabbè raga Queste non sono attività Che posso mettere in lista Va bene Allora Scambi commerciali Per Far livellare Le professioni Dei signori Nei villaggi Allora Fermi Basta Basta Abbiamo già troppa roba Scambi commerciali Vediamo cosa abbiamo in borsa Potrebbe essere la prima cosa Anzi La prima cosa è chiaramente Il diario Poi Due Scambi commerciali Tre Piantare i nuovi semi Quattro La base operativa Perché dobbiamo raccogliere i materiali Semplicemente dall'inventario Cinque Tornare nel nether Quindi con fuoco blu E poi costruire la base operativa E per ora mi fermerei qua Mappa del nether Ovviamente sei Ma che in realtà è compreso nel quattro Diciamo Non fai la quest prima No 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 secondo me no Adesso no La voglio fare alla fine Oggi voglio tornare nel nether Fare l'amore con il sapore Direi che ci siamo Direi che ci siamo Metto il condizionatore a full potenza No Non è per niente a full potenza Bene Mi leggo al volo Le subanze Grazie a Nemi Steppi Ashen Seraph Arrivato di nuovo il sito Diego Balego Brick01 Friendly tip Quando salti mentre corri Vai molto più veloce Ah ma quindi devo togliere Il catturo allo schermo Tore implessa Diciassettesimo Ma nell'ultima live di Ori Mi hai terrorizzato Quando hai detto che avevi dubbi Solo giocare Outlast 2 Dato che hai sentito in giro Che fosse una situazione By Shock 2 Ti garantisco che quanto più lontano Ci sia da quella situazione Chiunque ti abbia riferito questa cosa Stai pur certo che non ci hai mai giocato Perdonare ovviamente l'OT Ma non vorrei mai che ti perdessi Un giocone della madonna Per qualcuno e come al solito Parla senza sapere Va bene Gabrix13 Ciao Saido Mi sono riabbonato Grazie per tutto il supporto Che mi dai indirettamente Ho compiuto da poco 25 anni E finalmente avrò la maturità Dopo che sono riuscito A pagarmi il percorso di studi Che desideravo fare Fin da quando ero giovane Senza te Saido Che mi alletavi le giornate Sarebbe stato difficile Grazie di tutto Al momento Il più poritto Max Grazie a Curena Ijack Gaze Blake Calippone Tutto questo fuori di testa La cosa più assurda e stupenda Che abbiamo mai visto Complimenti a chiunque Stia facendo questo super lavoro Super dettagliato Rendendo la Blind Run Unica e magnifica Grazie a Red Dark Winters Che sia buona per un anno Buona esplorazione godica Grazie a Tripta Minchia Che sia buona per il secondo Grazie mille per sta serie Che è il punto più alto Della mia settimana Grazie ragazzi Troppo gentili Pox Twitch 27esimo Rakanot 96 21esimo di Tier 1 Il Banco dei Cubi Pappa al Pomodoro 23esimo di Prime Marco Chip Fabio Zanghezzekiro Che regala 3 sub Galbiazzo 22esimo Quel libro è oro colato Per questa serie Goditelo E approfitta davvero Fino in fondo E la possibilità di giocare Total Blind Sapendo però Che quando ti riterrai soddisfatto Probabilmente non avrai ancora scoperto La metà delle cose possibili In questo gioco Ma non c'è fretta raga Come sempre Non c'è fretta Datch 20esimo di Tier 1 20 come gli anni di Cristo Comunque questa serie è diventata la mia preferita In generale tra Twitch e YouTube Negli ultimi anni Grazie Grazie a Drake Grazie a Lupo Buono Penny Crystal Spider Cos'è quel libro? Mi sono perso all'inizio Torna indietro nella live Non tu puoi farlo Uber Piccio Un quarto mese Mesco e un micio Settimo Scrausos Prima volta Frankid Diciasettesimo Murku Cento bizzini Mistico Decimo mese Ciao lettore Daniele Ross Regala una sub E ci mette cento bizzini Auguri a Sigma Che ieri ha compiuto gli anni È vero Fram08 Si abbona per il sesto mese Quor di Luna Nono di Tier 1 Sono triste che il blabbo Si è rimandato Ma so che è la cosa migliore Quindi meglio così Hai più tempo per rimuginare Se magari fare un PG femminile Me lo dice tutti Marika e Moon Strange Quarto mese Quarto mese insieme Super felice di far parte Di questa community Aemonule Decimo mese di Tier 1 Buonasera Sidonione Grande ricercatore Del Land di Grosset Avviciniamoci Al mese degli esami E quindi mi allieti Nuovamente la serata Con il Minecraft Bene Bene Mi fa piacere E il fambo 25esimo Incredibile Due anni insieme Aggiungi frase strappalacrime E poi frase sul passato Grazie Erchio Matte Daniele Ross Belial Che si abbona per un anno Radim Che converte da Prime A livello 1 Giulio Parla Piano Dell'ultima sub che vedo Sono 19 Grazie a te Chiara Per tutto quello che fate Grazie a tutte le altre persone Che sicuramente si sono abbonate In questi 40 minuti Ma siete talmente tanti abbonati Durante Minecraft Che non riesco mai A ringraziare tutti Ma vi leggo Ieri per esempio Ho mandato un messaggio privato A un ragazzo Che non ho letto in live Ma che ho letto poi successivamente Quindi grazie a tutti Bene We're ready We're ready We're ready Daddy What'd you say Eh Cosa mi dite Possiamo partire Dai Un'altra giornata In quel di Grow Set Sta per partire E io Devo nascondervi Ok Vi ho salutati Non ci siete più Ufficialmente Non ci siete più Ci vediamo dopo Ciao Giusto Il mio destriero diamantino Giarrgad Giarrgad Geoda Buongiorno Come stai Bello Dobbiamo fare la prima cosa Nella lista Cioè il diario Che non credo proprio Di aver portato qua Per sicurezza massima Infatti non c'è Infatti non c'è Per tanto ci andiamo a fare Un bel giro Giarrgaddone Controllo per sicurezza Di non avere niente qui Ma non credo proprio Ah ma non c'è neanche una cassa Qua che cazzo dico Bene Giarrgad Giarrgad Il mondo di minecraft È un mondo molto strano Perché Credo stia tramontando In realtà Non è giorno Era pomeriggio Ma guardate Facciamo così Facciamo così Non voglio andare a letto subito Non voglio ancora dormire Sì Sì Facciamolo 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 al volo Non voglio andare a dormire Voglio farmi la mia solita pescatina notturna Perché La notte ha il suo fascino Nonostante sia pericolosa È anche il riposo del cielo Quindi Penso che sia bello Poter assistere ogni tanto A un po' di ombre Forse Uno Dei motivi Che più ho A cuore Mentre mi spacco le ginocchia E che mi spingono a riportare Ho sentito un grugnito Non è un mai altro Dicevo E mi spingono a riportare Grosset Al suo antico splendore È il fatto di restituire dignità Al cazzo Nell'ano E di restituire dignità Alla notte Perché attualmente La notte è privata Di questo privilegio La notte è temuta È pericolosa E non la puoi vedere Io invece voglio Che la notte torni a essere Un momento Prezioso Per l'umanità E per gli animali Altrimenti tutti quanti Rischiamo semplicemente Di dover saltare Uno dei momenti migliori Della giornata Il riposo Il buio Le stelle Non va bene Non va bene Ho trovato un pesce Ma ha fatto un sacco di casino Una piccola pescatina Piccola Tanto non ho niente di prezioso Indosso Oddio Ho un sacco di roba Però Ho anche un disco Questo non è il caso Di mettersi a pescare Così senza aver depositato tutto Ma ormai l'ho fatto Un'ultima pescatina E vado via Promesso Promesso Ve lo prometto Ve lo giuro Non abbiamo trovato nulla di prezioso Questa volta Ma mi basta Voglio mantenere Le mie stesse promesse Poi quanto è bello rompere le foglie Con una canna da pesca Ora vi racconto questa storia Ma è una storia Della mia vita vera L'ho già raccontato Forse in passato Ma chissà se qualcuno la ricorda O se c'era Quando la raccontavo Oh porca puttana Quanti sono? Vestibile Carne per mammonk Quando ero piccolino Con il batterista Del mio Gruppo Della mia band Dei Sogno Livido Andammo Sto facendo bene Sì Devo salire qua Andammo in un negozio Da pescatori Quindi un negozio Di pesca Per Comprare Dei vermi Ma non volevamo pescare Volevamo semplicemente Comprare Dei vermi Dei vermi E li abbiamo comprati E abbiamo provato a Tipo Averli come Animali domestici Purtroppo non è andata bene Sono morti Dopo un giorno Però abbiamo provato Tipo a dargli Dell'acqua A farli bere A farli A farli vivere Con noi Purtroppo Ma dove cazzo sono ragazzi Ma posso essermi perso Subito così Ma sono semplicemente Sceso Ne sono sicuro Non ho fatto altro Che scendere Non è possibile Beh devo seguire la luce In teoria no C'è luce c'è casa Aia Ci sono tantissime torce Quindi in teoria È tutto vicino E infatti Ecco qua Ecco qua Già il gaddone Bene Facciamo le nanne Ah è solo il fornello Questo Questo è il fornello Bene Buongiorno a tutti Belli e brutti Ah questa roba Quasi la depositerei A casa Insieme magari A altri Oggetti di valore Che potrebbero essere Questo quarzo Queste radici Anche se probabilmente Non sono davvero di valore But still Icone diamantino Ce lo dobbiamo portare dietro Per forza Dick E però cominciamo a portare Tutta sta roba del nether Al sicuro Cominciamo a portare Tutta questa roba del nether Al sicuro Ragazzacci Le radici distorte Sì 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 Portiamo tutto quanto via Abbiamo anche i semi nuovi No O forse li abbiamo già portati dietro Facciamo così Ecco Facciamolo anche di qua Va bene E il fungo Ma sti sti cazzi dai La carne marcia Magari la possiamo lasciare qua Vediamo Dente di leone pure Dal boscello Via La sella Ce la portiamo dietro Il letto ci serve Quindi possiamo lasciarlo qui Tanto torneremo di qua Un po' di ferro Lo lasciamo qui Che non si sa mai Le frecce le lasciamo qua Ci serviranno dopo Non mi porto di certo la carne Questo gambo cremisi Invece lo portiamo a casa Dove poi faremo gli esperimenti Blocco di magma L'ossidiana La possiamo riportare a casa In serenità Dove potremmo fare una cosina Della netherrack O della netherrack Non dietro a quanto pare Posso però procurarmela Posso procurarmela Attraverso Il picconaggio In abbondaggio Non me ne serve tanta Non me ne serve tanta Non me ne serve tanta Abbiamo appena aggiunto Una simpatica attività Da fare quest'oggi 12 sono più che sufficienti 12 sono più che sufficienti 12 sono più che sufficienti A questo punto Andiamo Non è un caso Che gli abbia preso Il portale Diamantino Ok buono Perché lo apro Se tanto poi alla fine Salto Non ha senso Non faccio sempre cose Che hanno senso Quasi mai In vero Ok Scendi pure Bello Scendi pure Buongiorno Buongiorno Vuole fare degli scambi commerciali Lei? No Lukaku? Ecco Lo sai come si chiama? Il golem più bravo Con il business online Montemagno Montemagno Andata così Si è girato Non mi ha neanche degnato Di uno sguardo Il maledetto Non importa Oddio Le api mi fanno sempre Paurissimo Guarda quel rumore Era Era un'ape? Forse era un'ape Che impollinava Il suo Pene Si è proprio Blup Blup Jargat Io sono sceso Da jargat Non ha senso Dai jargat Dove Che cosa ho preso? Cosa posso farci Con Qualunque cosa Io abbia preso? Con la House House Posso farci Degli uccelli Con la House Tonia Cosa è la House È evidente che non sia Questa House Tonia Sembrava un canarino Raga Eccola Eccola la House Tonia Prendiamo tutta la House Tonia Si può fare Gli uccelli In qualche modo Non so perché Da dei fiori Dovremmo creare Dei pulcini ma La grafica era Evidente Probabilmente Non era così Mi piace pensare Che sia possibile Quindi Prendiamo tutta la House Tonia È chiara Ecco House Tonia È chiara Eccoci Pronto Sono Cubiche Sì È un mondo A cubetti I'd like Del legno Signore Will take Due etti Riccardega Riccardega Un po' di Coiello Glielo dovremmo Dar Ma Si possono Fa scopare Sesso Villaggio Villaggio Aspetta Aspetta Cioè Possono Riprodursi I signori Giusto Vivrà Allora Ma abbiamo finito Tutti gli spazi Facciamo il deposit Azion Via 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 No Assi di abete Li teniamo Il secchio pure House Tonia Nel momento Di fare Leaks Berryman Sella Disco Musicale Terra Binari Non servono Cana da pesca Potrebbe esserci dell'acqua Nel nether Pescabile Allora Non dell'acqua tradizionale Potrebbe esserci dell'acqua La risposta è sì Magari acqua Viola Acqua magica Acqua diversa Ma comunque con dei pesci dentro Potrebbe Non posso escludere che ci possa essere Quindi la canna la prendo Questo va bene tutto Va bene tutto La canna da zucchero No Quindi il depositatium L'abbiamo fatto È il momento Della entry Del diario Capitolo Sette Capitoli Capitolo Sette Genesi È la seconda volta Che mi imbatto In strutture speciali Che sono sicuro Non esistessero Ai tempi Di una Grosset Sana E felice Si tratta Di Gabbie Infernali All'interno Delle quali Atomi Instabili Girano Su Se stessi Se stessi Se stessi Freneticamente E dopo Un certo Numero Di rivoluzioni Che ricordano Il rotear Del nostro pianeta Quegli ammassi Di ferra Di ferra Di ferro Generano Volevo scrivere Ferraglia Ma poi ho cambiato Idea E il mio Cervello Ha partorito ferro Quegli ammassi Di ferro Generano Nuova vita Chi Partorisce Questi Generatori Di esistenza Coloro Che nascono Da questi affari Possono essere Considerati cloni Devo indagare Molto Di più Andiamo al bestiaio Cubi Di magma Come Gli slime Questi Cubi Di magma Sono Perché con La M Maiuscola Vabbè sì Perché è il nome Proprio del Del mostro Questi cubi di magma Sono tenuti insieme Da melma Non ben Definita E sono L'ennesima Prova Del fatto Che La malattia Sia in grado Di rendere Viva Seppur In forma Instabile E decadente Anche la materia Non sembrano Non sembrano Essere Molto Potenti Invelo La forma Di vita Più Debole Che ho Trovato Dall'altra parte Ok Fatto Nel bestiaio Cinghiali Cinghiali Una forma di vita Che un tempo Era autoctona Di grosse E che durante Il mio sonno Per qualche motivo Deve essersi Destata O spostata Dall'altra parte Che I mai altri Non siano Nient'altro Che Naggettiani Che ce l'hanno fatta Merda Si sono scopati Le cinghiali Holy fuck Hanno fatto Il sesso Maialico Hanno creato I Mai altri Facendo il sesso Con i cinghiali Posiamo il diario Bene Non lo farò mai Con te Tranquillo Non voglio essere Un mai altro Cosa abbiamo Qui Un po' di patane Ma i si Io dove cazzo Li ho messi Non li ho portati dietro Per qualche motivo O si L'ho già fatto L'altra volta Forse Eh si Zuc Barbabietola Barbabietola E basta E basta Vabbè Ora tu stai qua Coglione Allora Togliamo un po' di grano Piuttosto che le patane E prendiamo anche questo Non importa che non è full Granoso Mettiamo la zucca qua In realtà potevo non Non sbarbare l'ultimo Perché ci poteva stare E Poi Cazzo ma non è cresciuta una minchia No questa è la Via delle patane Vabbè però sti cazzi Del grano Rai Schifo Allora Qui togliamo il grano E ci mettiamo dentro Almeno Quattro Barbab Ma secondo me Possiamo togliere anche sta merda Fa veramente schifo Fa veramente cagare Ok Poi A livello di pappe Come siamo messi? Bella sta musica Mamma mia Le musiche di minecraft Mi accarezzano l'anima Le amo Una pagnotta la possiamo fare Via Questo lo portiamo dietro Dobbiamo farci un arco In realtà potrei portarmi anche L'arco dei Chad Fanculo va Non posso tenere per sempre Questo arco qui dentro No? Che cazzo di Caca sotto sono Se continuo a tenere Questo arco qua dentro Anche la mappa vuota La devo prendere E adesso Facciamo un piccolo esperimento Non adesso Adesso è il momento Delle nalle Ma non prima Il pescato nel mio orto Posso? Probabilmente no Non funziona È intelligente Questo gioco È piccolo Oddio Ho piscato nel mio orto Il mio orto è vivo Nel mio orto C'è vita Marina Quindi in sostanza Nell'acqua C'è spawn Degli oggetti Di pesca Pressoché infinito Ti prego Però credo che La ratio Di quanta roba Puoi pescare Dipende da Quanto è grande L'acqua Che c'è intorno Il blocco Diciamo Ma che cazzo fa? Beh Buonanotte Cazzo in mano Piccola sega Della buonanotte E rivederci Buongiorno Buongiorno bello Allora Potremmo fare Un cuocino E qui Il contro Cucino Vediamo se abbiamo Altra roba Da cucinare Sei fortunato L'abbiamo Ok Buongiorno a tutti Abitanti di villaggio Due È tempo per me Di fare un esperimento Buongiorno a tutti 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 Dove l'ho messo? Ho perso per sempre Non ho portato l'ossigliano Abbiamo detto che la piangente non serve a niente Aspettate un secondo perché è sospeso l'altro Quindi facciamo così e poi lo togliamo Facciamoci un attimo un pilone da lavoro Il famoso pilone da lavoro Un po' piccolino Un po' piccolino Un po' tanto piccolino così Facciamolo almeno più alto Facciamolo almeno più alto Quindi fatemi togliere questo Aspettate col diamantino Con il diamantino Quanto ci vuole? Calcoliamo il tempo necessario a cacarsi addosso Uno Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undeci Circa dieci secondi E poi quello lo potevo tenere Circa dieci secondi Ragazzi Non così tanto Cosa fa Ricky? Mi sta guardando? Ricky? Sento Ricky che si lamenta DR1 oggi Ne sa di sì Perché Ricky sta male Pietro Unimodium Allora Very good Facciamo così Facciamo così Facciamo così Ok Mi devo fare il contropilone di lavoro Aspetta però posso direttamente farlo così Perfetto Pipo Pipo Papo Pupo Eccolo qua Pupoide E' bello Così è bello questo Buono Adesso I rivestimenti K Non ho molto per rivestirlo Anche se ormai abbiamo capito che non serve un cazzo Ma perché non farlo E' bello E' bello Però mi sa che non ho abbastanza per fare i contori Dovrei rubare da altri portali Lo farò Prima in lama Adesso Vediamo cosa intendevate per Non hai capito E' comunque farlo così Meno elegante ma comunque bello Sono un pezzo di cazzo Proprio succhio Pisone Ok 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 Aspettate un attimo Che dobbiamo fare questo Pupoide 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 Madonna ma quanto sono un clown Ma perché il circo non apre E mi invita A rimanere per il resto Dei miei giorni lì ovviamente è un po' duro con me stesso ce l'abbiamo? tutto storto, vero? sicuramente tutto storto il portale è speciale no, no, è dritto è dritto, è dritto è dritto, non è è stato peggio bene now è tempo del fornello signori è tempo di infornellarcela un'infornellata pazza il fornello è tutto fa solo così che viene proprio bene il fornellino se viene aspettato eh lo so Ricky lo so, lo so non lo so neanch'io no, no, Ricky come on Ricky non lo so neanch'io non so come ho fatto ti giuro che però è vero mi pigliappa il culo di là si è aperto ti dico che si è aperto ho fatto più o meno così non mi crede, coglione pezzo di merda, Ricky quando fa così Ricky ti ho rotti il cazzo ah ma stai cercando Eva è di là un pezzo si chiamasse Eva ma non mi ricordo mi si chiama è di là è di là è di là Eva ma andrà a salutarla Ricky ho capito tutto ma cazzo chi ha di permesso grazie grazie fizzomeliè della sub non ci arrivi cosa cambia ferma lavori ferma lavori no sì e l'ossidiana come si comporta? aspettiamo no l'ossidiana non sembrerebbe essere infinita potrei aver bruciato l'ossidiana per sbaglio ma non è infinita però magari non è infinita da sola ma in gruppo sì lo faccio così no sì io posso spegnerlo non devi accendere sotto devi accendere a lato per questo mi dicevate che non avevo capito e posso spegnerlo? a quanto pare no ma non serve cosa cazzo cosa succede alla luna nel portale? molto più forte quindi è il lato che si accende in qualche modo ma la netherrack quindi non serve a niente? non fa differenza se c'è netherrack sotto o no? si vede la luna ma non c'è perché il riflesso dall'altra parte sta riflettendo è di qua è il riflesso della luna è uno specchio questa cosa perché io non mi vedo? cosa si vede dentro? però si vede anche attraverso perché quella è una casa che è lì guardate quindi è sia uno specchio che anche un vetro va bene quindi è più vetroso che specchiato è il tipico riflesso di una di una finestra andiamo a dormire e poi faremo una piccola vasca per vedere in che punto di Htholzerg ci porta questo questo portale il sole allora andiamo al volo Ricky che cazzo hai da di coglione? guarda non fa il gazzetto non fa il gazzetto m'offendo vaffanculo vai Ricky beh andiamo esistono portali costruiti anche da questa parte quello è un portale quello è un portale oh mio dio probabilmente è uno dei portali rotti che io ho visto già dovrebbe linkarmi a un portale rotto dall'altra parte c'è della lava potrebbe essere potrebbe essere potrebbe essere il portale allora lo ricostruiremo potrebbe essere il portale vicino villaggio potrebbe essere il portale vicino villaggio se c'è corrispondenza assoluta ma non lo sappiamo non ne ho idea scusate è piccola piccola vaschetta piccola vaschetta piccola piccola vaschetta con arco con arco arco merrino così si chiama il mio arco magico ho sentito qualcuno ridere ma anche riflettere demone bianco lo sento mi sta facendo ammalare questo bastardo più di uno impossibile che siano due buongiorno adesso che esista il giorno da voi beh mi piacerebbe visto che sono qui costruire un ponte ponente ponte a pitta a petta a perugia ma per farlo mi sa che mi conviene distruggere e poi ricreare successivamente pare una sorta di bonificazio un zeta oh mio dio ma questa cosa è prevalente di una loro cava oh no ho tanta paura non attaccarmi non ti ho fatto niente esiste ora che ci penso l'equivalente del sottosuolo per loro quanto stiamo a 8 quindi in teoria sì in teoria sì non ho mai ragionato sul fatto che potesse esistere un sottosuolo tutto loro perché questo posto mi sembra già di per sé un una mina una miniera per quanto è oscura è pericolosa ma in realtà questo è l'equivalente del loro rato intanto dobbiamo creare un ponte un ponte puntoso con questa neverack ma se creassimo la scala di gli archè riesco a creare un blocco sotto blocco secondo me sì però poi è un casino perché non riesco madonna che paura madonna che vertigini ok il mio arco il mio piccolo fortunatamente ne ho un'altra devo stare molto più attento il mio arco merrino non c'è più ho fatto un salto di troppo ritorniamo ah ho perso tutto anche l'arma perché ho saltato perché l'ho fatto perché ho fatto un salto un altro arco ma 9 di durability e adesso me lo dovrò far bastare un acciarino non ho ferro qua per creare questo portale il problema è che non ho ossidiana il problema è che non ho ossidiana e tutto quello che ho è completamente distrutto perché ha toccato la lava va bene poco male ferro grezzo carbone lo abbiamo fortunatamente proprio per questa evenienza avevamo un secondo dovremmo avere ancora del carbone qua dentro no perché il carbone lo avevo addosso mi sa amici qua ho del pollo ho perso il cibo sono una merda ah ecco qua guardate non so perché non l'avevo visto fantastico beh non so perché non sono un po' io pipipopi ricreiamoci velocemente tutto ma mi sa che ci manca l'oro forse col pepito ah no oro grezzo però non ho roba da bruciare vero? perché ce l'ho tutto di là voglio costruire quel ponte ragazzi voglio costruire quel ponte riprendiamoci sta netherrack devo rifarmi l'armatura potrei risparmiare mettendomi sti pantaloni con spine still ho qualcosa da bruciare ragazzi ho pure due diamanti quindi poi in teoria potremmo andare a scavare ma non mi serve adesso scavare non ho un cazzo da bruciare non ho un cazzo da bruciare allora oh buono va bene va bene ok devo però portarmi qualcosa in più vediamo se ho del pesce poi allora i gambali ce li abbiamo la cesta ce l'abbiamo non ce la faccio a fare l'elmo me ne mancano due pepitone vabbè posso prendermi del carbone al volo volendo le gambe non le facciamo così poi ci manca solamente l'Anton Giulio Tonks eccoci qua si un po' meno ovviamente il cuoio protegge un po' meno masticazzi masticazzi il problema è che non ho niente da bruciare perché se no avrei fatto al volo aspetta il carbone era qua sotto fermi fermi un attimo facciamo un attimo una roba al volo facciamo un attimo una roba al volo non so io come prendere il carbone non so io come prendere il carbone è solo un rallentamento raga e una segata quella che ho fatto ma non dove oddio non ho visto niente ma non succede nulla non succede niente non succede niente non succede niente fatemi prendere il pietrisco se non sbaglio il carbone era che cazzo sto facendo qua sotto l'avevamo visto l'altra volta ok perfetto si porta anche una scetta fantastico che cazzo ho fatto e facciamo anche pipo pipo facciamo anche questo che non si sa mai perfetto facciamo anche un spada che comunque va bene e dobbiamo fare anche una vagina protetta allora pipo 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 ho sbagliato tutto eccola qui eccola qua eccola qua no che cosa ho sbagliato aspetta perché è di qua perfetto abbiamo il godo abbiamo il contro godo il gaudio ecco qua tutto cosa pipo pipus e ora svancheggiamo un attimo prima di andare a letto giusto per prendere il carbone che se non sbaglio era proprio qua sotto facciamo al volo un attimo eccolo visto vai carbone preso mi sa se si può trovare il diamante nel nether o se esiste un equivalente del diamante mi è venuto in mente ora non mi chiedete come non mi chiedete ne perché ora prendo la lava e muoio buono fantastico andiamo a fare questo pipo ok perfetto pipo 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 non ho più terra buggeroli no mi farebbe male il cervello ragazzi fatemi fare così prego grazie andiamo via adesso ora che abbiamo sfruttato il carbone trovato l'altra volta possiamo cucinare cruda vabbè 5 cibetti sono un po' pochi fatemi vedere se c'ho altro pesci no pesci no pesci no pesci grazie patomas giro della sub pesci no pesci no pesci credo credo che non ci sia né canne né pesci questo inventario non è né canne né pesci quelli che vedo non si mangiano buono va bene basta avanza cuciniamo il maiale oddio potremmo poi fare comunque dell'oro ok i fong va vai finita ogni sega vai buono via 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 dai però adesso ci manca allora l'ossidiana l'abbiamo fatta vabbè prima creiamo il ponte poi vediamo l'ossidiana si fa mettendo l'acqua magari questo piccone diamantino però no però no questo piccone diamantino lo lasciamo qua per questa operazione che mi fa molta paura che se poi lo dobbiamo rifare ragazzi c'è da trovare un altro diamante ed è un disaster purtroppo ho incrociato male contro le shift e ho saltato non cazzorre portiamoci tanta nether che se ci fermiamo a metà strada senza nether che è la fine ok buono allora dov'è che l'avevo creato il ponte di baracca da quest'altra parte mi sa valla c'è anche una cassa in teoria dentro c'è la solita roba l'acciarino quanta ossidiana inutile peraltro piangente magari qui si fa solo con la piangente per farlo al contrario però allora io sto premendo control ovvero se io cioè così non posso cadere questo tasto è le vertigini ragazzi il mignolino mi fa male mi fa male il mignolino ragazzi ho tanta paura ok buono però adesso non devo più farlo all'indietro e anzi posso cominciare a fare il descendo ma per poco è un po' che mi invento anche fa un po' di descendo ma poi è proprio un portale raga a occhio e croce gli mancano una due tre sette ossidiana per fare quella roba com'è fattibile poi scendere ancora di più così arrivo eh ma non concludo niente vediamo cosa succede se faccio così facciamolo con una certa distanza che non sappiamo mai dove possa ecco collassare ok questa cosa mi piace si poi andremo dopo a scavare queste robe poter un cazzo in teoria già adesso ok prego prego ginocchio non mollate c'è un demone oddio oddio sono vivo ma come torno lì come torno indietro adesso vabbè non è un problema in realtà posso fare un pilone di cazzi non è un problema tornare indietro il problema è non farlo in modo da fottere la strada che ho fatto maledizione della scomparsa che vuol dire prendi tutto prendi tutto maledizione della scomparsa picco cosa cos'è la maledizione della scomparsa maledizione della scomparsa un oggetto un oggetto maledetto e poi abbiamo dell'ossidiano maledizione della scomparsa purtroppo non ho il piccone diamantino quindi però questa preziosa lava eh però non c'è l'acqua qui non posso usare l'acqua questo è un prisel non c'è l'acqua quindi devo creare dell'ossidiana in superficie intanto però siamo arrivati qua allora torniamo in superficie facciamolo eludendo il demone bianco torniamo su la strada che stavo facendo è questa adesso dobbiamo solo creare una scala sai Donia non sei riuscito a creare scale per tutta la cazzo di rana ce la farai adesso? ah ho capito cosa fare basta lasciami stare la difficoltà mi sta oh sto mettendo sempre un blocco no che cos'è? roccia urlante c'è un fuoco blu sabbia delle anime sono davvero allora facce urlanti posso fare la torcia delle anime? la torcia delle anime? cos'è questo posto? dobbiamo indagare l'illuminazione cambia quando mi avvicino alla alla notte blu dobbiamo cercare ancora tornare su ti prego demone bianco lasciami andare non ci lascia andare è evidente guarda lì quella è tutta una landa delle anime credo di avere un'idea diventa fuoco no spostati non voglio farti del male diventa fuoco blu? si immaginavo questo è fuoco blu il fuoco blu non è nient'altro che fuoco che si accende sulle anime questo è un fuoco delle anime questo è un fuoco delle anime dovremmo provare con il cabone dovremmo forse bruciare? grazie felice furetto cazzo sto facendo con la spada torniamo alle scale oh ci siamo in realtà però dovremmo distruggere questo che tra l'altro ci fa anche comodo vediamo e fare così ecco qua si con le mani va bene oh mio dio cerchiamo di premere comunque sempre control magari di creare una strada un po' sicura una più spaziosa va bene credo di aver creato dopo tante puntate la mia prima scala e l'ho fatto perché avevo paura di morire guarda la la paura della morte quanto busta il cervello adesso dobbiamo scavare in questa direzione credo venivamo da lì ma non sbaglio si cerchiamo di creare un passaggio leggermente più decente ovviamente adesso che non ho niente addosso non muoio e oddio ho di nuovo un set di armature ok mi dispiace mi sono fatto una lista e non seguiremo nulla di quella lista perché abbiamo una quest importantissima cosa succede se crei un controportale notte andare a dormire di volata una piccola sega pensando all'inferno piccola pugnettina ci serve il secchio un po' d'acqua che possiamo prendere dalla nostra sorgente pressoché infinita fatti cazzito benissimo dov'è il portale jargab non mi ricordo bene penso fosse per di qua potrei guardare il sito ma penso fosse per di qua in ogni caso mi basta la lava e la lava era veramente vicina perché rischio di caderci ogni volta dovrei crearmi una pozza d'acqua infinita accanto alla lava non ho preso il piccone però fermi devo prendere il piccone diamantino senza piccone diamantino non posso minare l'ossidiana che andrei a creare dovrei fare due viaggi padre mammonk non ho carne da darle ah giusto il piccone d'oro la maledizione della sparizione la maledizione la scomparsa non sembra una bella cosa però magari vuol dire che se mino con questa roba protezione delle esplosioni dicevo forse è un piccone d'oro ma se lo usi potrebbe scomparire il loot non sono molto sicuro di quello che abbiamo fatto c'è ok è gratis nel senso che lo trovo in giro però allora ikotako vai via questo questa non mi serve al momento non mi serve la roba no come si usa sta roba mi manca una per vedere un blocco completo sabbia delle anime con la sabbia ci si fa il vetro se posso bruciarla ma l'ho appena provata non succede niente sabbia delle anime dobbiamo dobbiamo capire ma non ora sei ossidiana è fattibile sei ossidiana via questo via questo a questo punto le frecce le ho perse cazzo ho perso ho perso le mie preziose frecce non penso di averne altre vero fan culo a me oh bello ho perso tutte le frecce questa è grave questa è grave vabbè ce lo faremo andare bene come scusa c'è qualche zombie qua sotto è evidente ma non me ne frega non sono qui per questo se non sbaglio c'è della lava poco in là dove rischio di cadere sempre ok questa era la mia vecchia casa se trovo la mia vecchia casa ok la lava è lì vicino un po' qua dietro eccola la bene le mie palle le mie palle giargaddo non fa cazzate giargaddo non fa cazzate due buono dovremmo aver creato l'infinità sì sì e attento già il gaddo non fa cazzare non fa cazzare Quanto paura Direi che ne abbiamo fatto abbastanza Ho paura che Jargad Lasciato libero possa entrare nella lava Arrivati a questo Sei Raga Jargad se ne sta andando Non mi piace questa situazione Jargad Raddoppia il tempo per le azioni a cavallo Jargad ti prego fai piano E non mi leccare Jargad Che ci metto Scusa se toccano l'acqua ci mette il doppio 3 4 5 6 7 8 9 10 No in realtà Non solo io impaziente Siamo a 7 Eh però aspetta Ferma lavori qua Poi che succede Poi piove Poi è tutto No Che cazzo fai Jargad Che cazzo ho fatto Aspetta Jargad Non mi prendo questa responsabilità Ho tanta paura di Jargad Ok Dov'è Jargad? Ok Tra l'altro sta creando Altra ossidiana a catena sotto Va benissimo Grazie Steel Dragon No 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 K Ci siamo 10 È assolutamente Un numero Buono Jargad Possiamo andare Sempre impaziente Jargad Cazzo E ora si ritorna Ora il piano è concluso Scopriamo Che cosa c'è Dall'altra parte Se chiudiamo Un portale Nel nether Esperimento Necessario Oserei dire Necessario Salta Jargad Salta Allora Lascerei No Non posso lasciare Il piccone No No Puede Però la strada È già fatta Francesco Cilurzo Ora dormi Se puoi Ok Ok Ciao Jargad Va bene Dopo ho mandato La zona dei miei contro te Se torno vivo Cazzo faccio Stabile possibile Deve essere Questo percorso Ok Qui c'è il paforo Del monte Cazzo Perfetto Le mie palle Ho sbagliato Punto Dove cazzo È il trappolo Dove cazzo Ragazza Madonna Ragazza Madonna Ragazza Dove cazzo Era Ma non c'era Una strada Dove cazzo Verso tutto Verso tutto Verso tutto Che cazzo Dovevo andare Adesso Ah Probabilmente Ho messo Un blocco Di troppo Qua Eh sì Era qua Il traforo Devo renderlo Più evidente Allora Era qua Il traforo Del monte Yes Non ci sono Daemon Questo Mi rende felice Il bastardo Non può Lasciarci in pace Ovviamente La cazzo È il demone Non lo vedo Ma lo sento Ho sentito Il suo pianto Intanto Demoliamo Sta merda Poi switchiamo Piccone Non appena Abbiamo demolito Le cose inutili E stiamo Molto Sempre 10 secondi Saranno Paura che Da un momento All'altro Mi arrivino A botta Del demone Nero E del demone Bianco Into Knockback Into Lava Into Morto Potrei evitare Questa cosa Usando La metterla No 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 Dopo Da un'altra angolazione No Questa cosa È importantissima Questa è una Scoperta Epocale È una Scoperta Epocale No 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 Dobbiamo però Prima creare Un luogo sicuro No Il quale Non morire Di merda Addosso No Benissimo Ok Ok È letteralmente Impossibile Morire di merda Adosso Adesso Bene Ho sentito La scimmia impara L'arte tutelare Il principio di precauzione Meglio aver paura Che buscarne Diceva il vecchio saggio E adesso Risorgete Non morti Arrivano Sì In teoria Allato No Sì Ha funzionato Funziona Funziona Ma dove mi porta questo E lo avrò riparato Anche dall'altra parte Vieni qui Aspetta Mascia ce l'ho Non l'ho rifatta Oddio No No Ah Non l'ho rifatta Non l'ho rifatta Non l'ho rifatta Bene. Godereccio me il cagarmi addosso lungo questo cammino e adesso scopriamo la verità. Ho avuto un brivido perché siamo in una grotta? Sto antico portale di una civiltà sotterranea. Oh mio Dio. Noi siamo. Non è quel portale rotto, è qualcos'altro. Oh Dio. Ma dove siamo? Questa live è assurda. Dove cazzo siamo? F3. 327. Siamo dentro un monte? Ok. 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 Non mi piace molto questa situazione. Ok. 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 123.700, casa è a 1100-1300, quindi siamo in una grotta vicino villaggio, in un sottosuolo vicino villaggio. Merita di essere esplorato già che siamo qui, però non abbiamo risorse, non abbiamo torce, non abbiamo niente, merita di essere esplorato ma non così, non qui, non adesso, perché non potremmo illuminarlo mai, e c'è tanta strada da fare, c'è tanta strada da fare, potremmo, non abbiamo assi, non abbiamo assi, possiamo fare quattro torce, ma giusto per delineare una strada, una strada molto interessante è questa, subito verso un baratro, ma non posso andarci con queste poche risorse, però è sicuramente invitante, dobbiamo tornare a casa. Potrebbe essere interessante creare una specie di cazzo che si autoincula e si autoincazza, cioè, anziché tornare indietro dal portale, perché non torniamo in superficie? Così creiamo un portale che da casa ci porta nel nether, che porta un altro portale, che porta giù, ma con una scala che torna su e ci mostra magari una parte diversa dei biomi del mondo. potremmo provare ad andare su. Siamo a cinque, non so la terra quanto sia, però... sarà che adesso voglio fare un sacco di scale. Ho capito come si fanno. Ah, fa il culo. Ah, fa il culo. Ah, fa il culo. Oddio, è armato. Sì, godo. 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 Godo proprio. Ho fatto uno scalino in più. Dio, madonna, non mi riesce mai di cacarmi addosso. Ok. 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 E ora noi facciamo tipo così. Penedite. E poi così. Aspettate. Aspettate, aspettate. Ho l'ingegneria, ragazzi, ho diventato ingegnere. Fermi, fermi, fermi. Facciamo così. 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 Oddio. Il mio cervello sta sbloccando nuove prospettive. No, ho sbagliato. C'è del cabone lì. Maia. Quanto ci vuole ancora salire? Ok. Adesso possiamo in realtà smettere di fare questo. fare così. E... Fare il contrario di quello che facevamo l'altra volta per Nugget. I ragazzi di YouTube non vedranno un cazzo. Però... Cioè, guardate che cazzo di lavoro di ingegneria incredibile, eh. Scavifera stiamo facendo. Una cosa che probabilmente un giocatore normale di Minecraft fa sulla seconda partita. Ma no. Lo trattiamo come se fosse. Una scoperta del seco. Il problema è che non ho più torce, ragazzi. Di presto... Il buio avrà la meglio. Quanto cazzo ci vuole? Siamo a 23. Perché non... Non vedo la luce? Oh! Ok. Era solo il cazzo che si incazzava. Raga, però... Cioè... Porca putana. Non è possibile. Siamo a... 31! Do cazzo parte il suolo? Non era almeno? Madonna, è la scala di Mario 64, raga, raga. Vabbè, raga, al buio, al buio. E si fanno le cose zozze. È buio. Tanta paura che mi caschi in testa qualcosa e io muoio. Quarantatré. Quarantatré. E siamo a 1742. Dovremmo ancora capire dove siamo, da un punto di vista geografico. U del cabone. Però... Ciò che è certo è che è una civiltà inedita. Perché si tratta di qualcuno che aveva compreso la scienza portalica ai tempi di Egobalego. Il vecchio mondo. Conosceva l'altra parte, a quanto pare. Egobalego no. O almeno... Questo credevo. Hai preso tutto il cabbons. Possiamo andare avanti. Oddio, terra. Si, godo. Oddio. Oddio, è acqua. No, 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 no. Ce l'ho al secchio, vero? Eh, però che ci fu al secchio, porco. E come fa a ritrovare? Come fa a ritrovare sto posto, raga? Dove sono? Ma un po' piove, Dio, sghelli, Folg. Non ho idea di dove io sia, bimbi. Ma come fa a trovarlo adesso? Devo mettermi almeno un coso di riconoscimento. Mettiamo un cazzo gigantesco fatto di netherrack. Eh, dai, almeno. In lontananza ci sono delle torce, quello che cos'è? Un luogo civilizzato? Un luogo civilizzato? Sembra, sembra una torre. Cos'è? Fermiamoci, ma... Con la roba vera. Che cazzo ho fatto? Ho fatto via la spada, comunque, gli orre. Tirati su. Non mi piace quel posto. Sembra, sembra... Una torre... Sono predoni quelli. Non capisco se quello davanti a me è un predone. Credo che sia un predone. Non so se riuscite a vederlo con il bitrate di Twitch. Che cazzo. Si, bene... Cazzo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. non posso certo andarmi a rischiare la vita qui dentro vorrei almeno vedere che cos'è e mentre lo faccio una piccola tutela un po' un po' tu rimani qui la zona lavica potremmo usarla a nostro vantaggio super peppo un po' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per liberarvi devo ucciderli tutti. C'è un pacco da lavoro. Dovrebbero esserci anche delle casse. C'è anche un altro super pippo, ma non è super pippo. Lui è chiaramente super pippo. Da quanto sei qui? Due settimane. Capisco. È il mio momento di essere il loro redone metallico. Vuoi combattere, dici? Bene. Esci, pippo. Le prigioni per mai altri potrei farle così. Senza. Bell'idea, redone. Gli altri però purtroppo per ora restano lì. Pippo. Pippo. Pippo è dietro di te. Vai, Pippo. Vai, Pippo. Grande pippes. Grande il pippega. Marco incantato. Ci penso io, Pippo. Troppo forte. Grande, super. Cos'è questo? No. Da picconare forse. Vabbè, ci penserò dopo. Ancora dobbiamo prenderci questo posto. Chi c'è? Un altro golem. Astardi. Oh, degli spaventapasseri. Che cuccioli. Ce ne sono due. Uno è armato. Con un arco incantato. No, super. Tranquillo. Tu vai via terra, super. Non guardare così. Lasciami stare. Super. Tranquillo. Ci vediamo tra poco. Lasciami, infine, dovette ricordare di nuovo l'arte della guerra. Ecco qua, coglione. Credo che siano morti entrambi. che bizzarri spaventapasseri. Che bizzarri spaventapasseri. Siete dei rozzi. Guarda quanti golem hanno intrappolato pensando in questo modo di poterci privare della nostra forza. E per ogni golem evidentemente c'è un villaggio caduto. o quasi un villaggio o quasi un villaggio quantomeno poco protetto. Vi libererò tutti. Siete tutti liberi da oggi. Liberi di vivere la vostra vita come meglio vi aggrada. Pippo. Pippo, sì. Di casa è di là. Come dici? Tu vuoi rimanere qui con gli altri golem? Per quante volte hai difeso il villaggio lascia allora che almeno renda questa la vostra nuova casa. intanto libero i tuoi amici. Questa da oggi sarà golem Milano Marittima. è tutta vostra. Potete vivere e riprodurvi se potete farlo. Non ne ho la più pallida idea. guarda questi bastardi che belle case che si fanno. Mi sa che li abbiamo uccisi tutti ragazzi. Questa ora è casa vostra. Controlliamo se hanno lasciato qualche tesoro incustodito ma non credo. Aia. Bell'idea però. Una torre per poter colpire il nemico. Le prigioni. Ci sono diverse idee che possiamo inculare a questi rozzi bastardi. Controlliamo bene di aver Oh guarda ci sono gli stendardi là sopra. Ma là sopra ci siamo arrivati. No no lascialo morire così. Come faccio a salire ancora? Gli stendardi non sono qui. Ah ci sono delle scale qua non le avevo mica viste. Turbo buio qua. Oh c'è un tesoro. Che bella l'ha vista da qui. Controlliamo i dintorni. è un portale quello? Raga raga non ce la faccio se quello è un portale. Oddio 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 cosa stava facendo cosa stava facendo cosa stava facendo l'F5 corno di capra ok prendi tutto quello che oddio sì carote ho fame oh posso pescare con le carote e quindi aumenta il tipo di pesce che puoi pesciare bello bello corno di capra ricerca che vuol dire ricerca lo scopriremo poi dobbiamo portare tutto questo al sicuro ma non ho un letto devo passare la notte qui dentro quindi cosa posso fare con una canna da pesca e una carota cosa cazzo è sono scared cazzo di merda questa che cosa ancora ok bravi bravi questa che cazzo è Dio sia lodato sbagliato non ci speravo che fosse là buongiorno a tutti dovremmo aver liberato credo questo posto a meno che non responi no ma non credo adesso dobbiamo solo capire cosa sono quegli esserini magici ma ho paura che liberandoli possano scappare se non so bene che cosa facciano ma still oh cazzo oh cazzo oh merda non è vero non è vero oh sì oh sì no non voglio consumarle tutte vabbè due vanno bene balestra mi non servono le frecce a quanto pare ah 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 demone bianco ah 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 questa puntata è la vita ragazzi è una delle puntate con più grandi non la userò per voi siete abbastanza scarsi come ti permetti ehi e voi non so cosa fare ehi sì e quindi ma non vi farò del male tranquilli io credo che purtroppo continuino a spawnare questi ragazzi voglio era anche vero che se continuano così sono loro che vengono farmati da meno nel contrario ma non vi farò del male e credo che credo che siano degli esserini benefici benefici per l'ambiente non ho idea in ogni caso dobbiamo cominciare a pensare a come c'è una puttana c'è qualcosa c'è qualcosa che fa spawnare la sua potrebbero essere gli standardi potrebbero essere gli standardi potrebbero essere gli standardi ha senso no perché finché ci sono gli standardi questo posto è loro dobbiamo toglierli grazie a tutti Allora Non ci sono più Dovrei averli tolti No Ok Qua Tolto sicuro No C'è ancora qua Forse ce ne sono due per lato Controlliamo bene C'è uno lì Eh sì Quindi erano due per lato Fatti qua Fatti qua Fatti là Ok Ora non ce ne sono più Via questo Andiamo comunque armati Il non si sa mai Potremmo aver liberato questo posto Tornato qui il bestiolino Che posso fare per te Eh ok ma Cosa ci fai Prendendo il tasso destro Gli posso dare le cose Che cosa fa Vuoi che ti segua Se anche l'altro vuole qualcosa Gli do della terra Ma l'altro mi sa che se n'è andato E a voi posso dare qualcosa No voi non volete niente E' andato via No Continua a giocare Vuole bene ai golem Intanto riprendiamo Il nostro piccone diamantino Non abbiamo molte risorse A livello di cibo Dobbiamo tornare a casa Dov'è che l'ho messo No che fai No Che cazzo fai Che cazzo fai Non ti uccidere nella lava Comunque bravissimo Si è auto tolto il fuoco E' un essere intelligente Si è tolto dal fuoco da solo Bravo Che cazzo è il mio piccone Si è rotto Boh chi lo sa L'altro piccone Va bene Metteremo dentro roba di poco valore Stendardo non lo so Me lo porterei per Non serve La Netherrack neanche A dire il vero Il pieno Sottosuolo maligno Di Netherrack 45 carbone Me lo porterei La diurite è tutta nel culo Corriamo di nuovo Magari ci prendiamo anche Ma ora mi seguirà per sempre Fammi capire Dov'è il pisello gigantesco Che avevo costruito Lì Lì Da dove l'ho visto Questo posto Ho visto le sue torce Probabilmente ero là Scopri male Io non ho più cibo Non ho più cibo Non ho più cibo Credo sia qui Mi segue raga Credo di aver visto Questo posto Da questa prospettiva Quindi Dovrebbe aver senso Il cercare in questa direzione Ma lui mi seguirà per sempre Tipo un famiglio adesso Che mi porta A un blocco di pietra Ma che merda Dove era il pisello Merda ragazzi Non trovo il pisello Eppure era grande Però non trovo il mio pisello E ora ho fame Eccolo Eccolo Ecco il mio pisello Evviva Dovrei farlo Ancora più grosso Però adesso Di un colore diverso Vabbè Non importa Ora è un bel pisello Cerchiamo di tornare Il luogo del delitto Ma non posso più Correre Porca puttana Però allora Non lo troverò mai 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 Dobbiamo fare una cosa Dobbiamo fare una cosa E alla svelta Vivo 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 Popi popi Pipo Sì Pipo Andiamo a dormire Oh cazzo Non 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 Mi segue Vabbè Non importa Sti cazzo Folletto È bello Ma nessuno Ti ha chiesto Di essere con me Ok Anzi È troppo pericoloso Viaggiare con me Torna a casa Fuck Torna a casa Ti ho detto Ma cazzo Si entra In questa Ok Dormi Spero che il folletto Se ne sia andato C'è un altro Siamo contento Vediamo un po' di terra Ehi bello Vuoi un po' di ossidiana Piangente Dai Magari Ti sblocca qualcosa Ti do un oggetto raro Vieni Grande Grande Oddio Ora mi segue anche questo Magari lo stesso di prima Bene Che guerrapolis Ogni giorno Non ho fatto niente Cazzo è la mia barca Dio Madonna Di Dio Dove l'ho lasciata Quella barca di merda Cazzo Cazzo Vabbè Finché muoio qua Cambia poco Mi sono piovuti Tutti in testa Dai Peglia tutto Peglia tutto Peglia tutto Peglia tutto Peglia tutto Ma che cazzo Che cosa ha fatto Che cosa ha fatto Mi ha tipo Inscopato E mi ha dato Dell'altra ossidiana Mi ha moltiplicato L'ossidiana piangente Quindi Loro Cercano roba per me Me la portano Quindi io se gli do Quel materiale Loro tornano indietro Con Quel materiale Vanno in giro Lo trovano Me lo prendono Ho solo uno scudo Adesso Danza Delle armi C'è buono La spada è troppo lontana Perché non crepi Dove è la palestra? Oh merda Non ho preso la palestra Oh merda Oh cazzo Via È morto Ancora qualcosina Eccola qua Ok ora Ufficialmente Allora Dicevamo Oh questo Un arco di potenza Era mio? I bocchili sono Ma questo Ah ma c'è anche l'altro Ok Ok Cazzo gigantesco eh Quello è un portale Quello è davvero un portale Assurdo tutto questo Ma quello è davvero Un cazzo di portale Oh mio dio Non adesso Quel portale Per quel portale Mi serve ossidiana In realtà La ossidiana La potrei fare Dalla lava Che c'è lì Ma ora sono due Oddio Una famiglia di stronzi Ehm Il mio cazzo gigantesco Dov'è? E da quale parte Vedevo questo Questo posto Forse di là Forse di qua Devo Trovare un modo Per orientarmi Cazzo Ah Mi sa che era da qui C'è un pezzo di merda Che mi insegue Mi stanno inseguendo A nuoto Quei bastardi No Non è qua Ma lo troveremo Dobbiamo trovare un modo Per rendere riconoscibile Il lato dal quale Siamo provenuti Cazzo gigantesco Per caso è qui? Non sembrerebbe Non c'è nessun cazzo gigante E qui? Non si sa Questo posto È pieno di merda I golem E gli altri Si faranno la guerra Oddio Sono venuto da qua Probabilmente Sì perché la lava È lì a destra Quindi potrebbe Grazie anche all'uguaro Del ride Però ho fatto il giro Il portale era lì E il mio pisello Non trovo il mio pisello Grazie al wafflo del ride Il mio gargantuesco pisello Is nowhere to be found Ah eccolo Ok 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 Quindi Torre Torre Alberi Dalla parte Degli alberi Sta il pisello Giustamente I virgulti Crescono nella stessa direzione Va bene Va bene Va bene Va bene Ce l'ho D'accordo Eh Non mi fate affezionare A voi Farete una brutta fine Con me E ora come la trovo Nella grotta Forse scavando Come faccio a trovare quell'ingresso Non devo creare un altro In teoria Però cazzo Avevo fatto quella scala Incredibile Vedete la vanga Oddio eccola La vedo No 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 Non l'affogo No È esattamente Sotto le palle È esattamente Sotto le palle Oddio I demoni Mi inseguono Piccoli esserini fatati Ve lo dico un'ultima volta Andate via Non voglio passare la mia vita A difendervi Cazzo Più complicato del previsto Ok Prendiamo aria Addio piccole fatine Addio piccole fatine Beh Adesso è Gardaland Grazie a tutti Questa puntata Credo sia la mia preferita della serie Assurda Assurda In qualche modo Siamo tornati Il mio cervello Qualcosa ancora pensa Avrebbe voluto Un po' di pane in più Non importa Torniamo a casa Abbiamo tante cose da depositare Cosa? Cosa? Tu mi hai seguito fin qui Bastardo La finiamo qua Questa è la chiusura della puntata Ci sono piccoli esseri indifesi Che durante Il dilagare della malattia Non possono fare nient'altro Che fuggire Subire Io non sono uno di quelli Dove sei? Sei bastardo Ti sento Dove sei? Merda Tanta roba addosso Non ti vedo Non ti vedo Hai paura? Hai paura? Senti la mia furia omicida? Grazie al ride Dei player inside Benvenuti ragazzi Benvenuti Grazie del ride Hai paura? Ti vedo Ti vedo con torture Ti bastardo Troppo lontano Non qua Non qua Non qua Non qua Essere più vicino Perfetto Sì sì Lottiamo Dove sei? Smettila di non scorderti È ancora troppo lontano Non voi Qui sotto Lo sento Non mi Non qua andiamo a casa madonna dottor pump punk se non disegni questo momento nel quale la freccia trapassa il cazzo di demone bianco e lo sgozza porca puttana e lo sgozza ok forse non chiudiamo ancora la puntata ma è tempo di riposo nel senso che dobbiamo quantomeno depositare e nella lista dobbiamo metterci anche esplorazione nuova cava più portale golem milano facciamo che si chiama golem mima che è più corto golem mima con il trattino però golem mi con due m trattino ma le carote potrò potrò piantare le carote potrò dormire ah perché le zucche fanno il palombello cioè fanno il controcazzo e il controculo canza qui potremmo prendere ste patane e vedere se possiamo incarotare ha voglia se posso incarotare ma vai allora un importante osso un importante pietrisco cosa fa questa corna non lo so probabilmente non voglio saperlo ora mettiamo tutto via mettiamo tutto via le patane me le potrei anche cuoce però c'era a cabone non l'avevo ah ok si c'era ancora a cabone probabilmente non l'avevo non l'avevo non l'avevo non l'avevo non l'avevo anche sulle un pez piantare che mi che mai di aspettare 甚麼 o v se Grazie a tutti. 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 Salve a tutti. Ok... Ok... Vedi? Aspetta, forse... Ok... E... Vi fa un attimo... Rompo di... Ehm... Alcone si tiene... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate me, sono di qua. Può Dio in queste occasioni essere amico dell'uomo? Non lo so, ma devo scacciare lo stress e accogliere il sapere. Ehi. 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 Dicevo, devo accogliere... Oh no. Devo accogliere il sapere. Sotto le palle. Ehi. 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 Non si può... Non si può dormire. GARDALAND! Nel Nether non si può... Dormire. I letti esplodono. Quindi il sonno genera autocombustione. Ne dovrò scrivere nel diario. Ok. Devo risalire. Cazzo è vero non ho l'elmo. I maiali vorranno farmi il sesso pensando che io sia un cinghiale. Cazzo è il pupo che ho fatto. Eccolo. Eh ma... Tutti gli oggetti saranno a puttane. Certo. Ora non perdo nulla. Per carità. Ah. Posso spegnerlo anche a mano questo. Ma dove sono? Eh li vedo. Li vedo. Sono tutti giù. E' un tentativo disperato. Oddio. Ho trovato però... Oddio. Qualcosa c'è. No. Non devi assolutamente rompere il cazzo. Ok. Una porta. Eh... Sotto c'è la maggior parte della roba credo. Qui c'è niente che ho lasciato? Non penso... Non penso ci sia niente. Non penso ci sia niente. Eh... Devo fare la scala più veloce della mia vita. Ma tanto se perdo non perdo niente. Perché per la legge di cazzi... NEL CULO! Non vale bastardo. Ma non vale. Ma non vale. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Mi sa che a quella roba dobbiamo rinunciare. Non è niente fortunatamente. Non è niente. Ma ormai li abbiamo... Li abbiamo... Caricati quegli oggetti. Ormai li abbiamo caricati. E quindi... Non li riprenderemo mai più. Non importa. Allora... Non è qua... No... No... Perché non ha gli alberi. Di là. Dobbiamo semplicemente tornare a casa. Si tratta di rifare qualcosina in ferro. E questo significa che la prossima volta... Verro similment... Dovremo... Che cazzo sono gli alberi. Sto capendo un cazzo di com'è fatta la mappa ragazzi. Dio cristo. Ci vediamo 500 volte. Il portale è lì. Che cazzo sono i famosi alberi. Non riesco più a ragionare. Sono fritto. Ci c'è stata troppa roba. Bastardi. Chissà quanto vi sarete goduti il momento in cui ho progettato di mettere un cazzo di letto. Che cazzo devo andare. Che cazzo devo andare. Ok gli alberi sono questi. È posto di andare là. Però senza... Senza... Senza la barca. Non voglio fare la barca. Dicevo comunque fortunatamente... Per la paura di fare il ponte per... Soulapolis. Direi che... Listo. Direi che non abbiamo perso nulla. Però dobbiamo fare le cose delle anime. Dobbiamo fare le... Gli oggetti delle anime la prossima volta. E forse, forse, forse... Converrebbe. Questoohl. Se non abbiamo scendere mai la prossima volta always. No, ma non abbiamo bisogno molto bene. Allora.. Grazie a tutti Ti odio Ma mi hai aspettato fino ad adesso Non posso lasciarti qui Zitto Stai zitto a non fiatare, non ti voglio bene Vedi che ti devo portare in barca perché sei fermo immobile Non sai neanche muoverti, io sono senza strumenti Dobbiamo trovare un accesso via mare Guarda che cazzo mi fai fare, bastardo di merda Siamo tornati indietro come degli stronzi, sei contento? Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No, 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 no. Seguitemi, cessi. La casa dovrebbe essere per di qua. Sei una merda. Non voglio volerti bene. Ma casa era davvero dietro l'angolo così? No, no, no. No, no, no. Ricky non voglio una cazzo di parola su questa cosa. Tu non hai visto niente. Vuoi un semino di grano per stare zitto? Dai. Te lo lascio dentro casa. Ne ho messi due. Gargad, sono delle cose che ho salvato. Non ne ho idea e no... No, non sono decisamente, ahimè, contro te. Cosa volete fare? Volete entrare? A quanto pare. Ma l'altro è rimasto fuori. Vieni anche tu! Cali, non so cosa dirti. Questa casa è uno zoo, hai ragione. Beh, ragazzi, direi che questa è la perfetta chiusura di questa puntata. non c'è molto altro da dire. È stato un episodio di dolore, ma anche di affetto. Mi sta bene così. È successo tutto in maniera molto naturale. Non avevo previsto di tornare là, mi è esploso un letto in faccia. Forse oggi la vita ci vuole insegnare che anche i letti in faccia ci esplodono per un motivo. Già. Vi libero. In tre, due, uno. Eccoci. Ciao, ragazzi. Come state? Come state? Tutto bene? Fuck. In questo episodio è successo di tutto. È stato assurdo. Non ho parole. Non ho parole. Questo è stato un episodio più divertente che abbia mai fatto di qualsiasi videojog. Simone, infatti, cazzo tu. Leggi sempre a voce alta come muori. Va bene. Messaggio della morte, lì non lo leggo mai. Ma questo cazzo di green screen me ne so a quarto ora. Ho fatto mezza puntata con questo green screen così. Ho tutta la puntata con questo green screen così. Leggi in chat. Sto leggendo la chat, ragazzi. Premi T. Sto leggendo la chat, ragazzi. Saidonia è stato ucciso da una scelta di design di Giotto. Saidonia è stato ridotto in cenere lottando con Ghast. Il demone bianco è un Ghast. Non voglio sapere. In realtà è un demone bianco. Beh, ragazzuoli. Intanto ci vediamo domani con Minecraft. Quindi recuperate alla svelta questa live. Ve la mettiamo eccezionalmente, visto che non dovrebbe essere così. Ve la mettiamo eccezionalmente. Alle 3.30 3.30 sta durando la light 3.40 Ve la mettiamo alle 18 17 Ve la mettiamo alle 17 Su YouTube Per chi non è sub Così potete recuperarla Il prima possibile Non potrei farlo I signori di Twitch non mi banneranno per questo Ok? Hai comunque 24 ore di esclusiva Saido non puoi Lo so Ale Sei la voce della mia coscienza Però dai mi romperanno il cazzo Per una volta Dici sì Mi romperanno comunque il cazzo Domani c'è il Game Fest Saido Sì? Ma già è vero Allora non è domani E quando la fa l'altra live? La volevo fare domani? Però poi c'è effettivamente anche il Devolver Cazzi Dal Domenica In programmazione era domenica Allora a posto Allora a posto Allora mi so sbagliato io A posto a posto a posto a posto a posto Grazie Fabio Fabbo Grazie della Grazie a tutti No allora non rischio dai Allora nulla A me non detto Ci sta la PIL Game Fest E Devolver Ok 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 a posto Capite meglio voi La mia programmazione di me Devolver Pampunk Sai cosa fare? Secondo me ci sono due scene Clue I nomi dei cosi blu Allora loro sono Loro sono Conad E Lidl Conad Lidl Conad Lidl Sono loro Bene ragazzi Persone oltre le fate Amici Due fan art Il ritorno di Conad E tra l'altro Assurdo che sia arrivata anche Conad Oltre all'idol E Poi La morte Del demone Bianco Non hai fatto le quest È vero Ragazzi Piano 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 si fa tutto Piano piano si fa tutto Oggi abbiamo scoperto un sacco di roba Però Secondo me Next time Back to Esperimenti Andiamo a cominciare a sperimentare Con un po' di roba Con un po' di roba che abbiamo racconto Bene Amici Io vi auguro Una splendida Una splendida notte E ci vediamo domani Allora con Summer Game Fest La PIL Summer Game Fest Tra l'altro PIL Ultima settimana Perché poi Purtroppo La PIL Si conclude Anticipatamente I motivi li sapete Quindi non sto a riraccontarveli Molte persone hanno avuto problemi Con La gestione di run Troppo lunghe E quindi Alla fine Hanno deciso di Ridurre direttamente Le settimane della PIL Ci vediamo Domani Comunque le run Le finiamo Le due run Che abbiamo noi Quindi Domani la facciamo E la facciamo anche venerdì Poi però Non ci saranno altre PIL Vi abbraccio forte Buonanotte E sogni e cazzi A domani Splendido episodio Ciao ciao No 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 Non farlo Non farlo Non farlo Grazie Ciao 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 Vedrete un po' di schermo nero Per cinque secondi Quattro Tre Due Uno Ciao 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 Sono cubiche, sì, è un modo a cubetti, vorrei del legno, signore, me prendo due retti, questa è la mia blindron di Minecraft. Si pianta sempre in calda, ma non conosco niente, voglio la copertina di Charlie Brown. Oh 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 Il canyon per le grotte, ci tornerò altre mille volte. Qui a Monego Fiera non funziona il binario, trascriverò tutte le scoperte nel diario. Sorprendendomi, costruendo storie, aggiornando il mio bestiario. E guarderò, laggiù lontananza, la distesa di buio e la mia luce che avanza. Ci sono ancora tante cose da scoprire. La superficie c'era un grande mistero, ego, balego, sarà poi tutto vero. La volontà di primeggiare li avvelerò. E terrerò nessuna traccia di mini-teche, abbandonando le terri. La tua fiducia ormai scalfita da guerre, ti porterò la luce per queste colline. Sono cubiche, sì, è un mondo a cuverti. Questa è la mia blind run di Minecraft, cantando sempre, sempre più. Ma è ora di andare, deve passare la notte, devo dormire. La tua fiducia ormai scalfita da guerra, il nostro studio è un mondo a cuverti. Grazie a tutti